alexa chiama la polizia no mi sono costruito tutto un sistema di sospesi che quindi diciamo non c'è nessun pio per terra il modem è qua il modem per terra no cioè io al tavolo faccio passare di qua poi di qua con la canalina tutto di qua di qua di qua di qua di qua e poi esce ho curato anche lì io il muro fa tutto di qua 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 e stende sono 22 punti di canalina e tu lasci il filo per terra grazie Vico scusami anche ma il maestro è così confuso da colpirsi da solo con il tuo cable management hai confuso il maestro così tanto che lui si è colpito da solo chiamando, lui si è scordato che aveva un'Alexa in casa al maestro ah e cosa ha fatto? ha urlato Alexa chiama la polizia e ha chiamato? stavo chiamando, ho staccato la corrente no